Aggiornamento della sicurezza delle macchine Quanti dubbi in azienda quando dobbiamo aggiornare la sicurezza delle macchine degli impianti? Un corso dedicato a tutti i chiarimenti legislativi legali per sapere cosa devo fare e una seconda parte dedicata alle nuove tecniche per progettare e ridurre i rischi in conformità allo stato dell'arte.